Sono 18 le mostre itineranti del Consiglio regionale che possono essere richieste in prestito gratuito e allestite presso enti piemontesi. Nella sezione mostre del sito del Consiglio è consultabile e scaricabile il catalogo con le esposizioni disponibili, tra le quali matite di guerra, satira e propaganda in Europa, piazze del Piemonte, la donna immaginata all'immagine della donna, l'agroalimentare in Piemonte, sport e sportivi come non li avete mai visti. Fino al 28 agosto, inoltre, la mostra Piemontesi alla fronte, parole e immagini, 1915-1918, è esposta a Palazzo Levis, nel comune di Chiomonte, in provincia di Torino.